ciao a tutti benvenuti nel nostro programma giornaliero muoviamoci insieme l'esercizio di oggi si chiama ginocchia al petto ed ha come obiettivo l'equilibrio statico per realizzarlo non occorre alcun oggetto possiamo partire con la posizione di partenza a gambe divaricate braccia in fuori palmi rivolti verso il basso portare il ginocchio verso il petto e mantenere l'equilibrio per 10 15 secondi ricordiamo di mantenere una postura eretta e una respirazione regolare e se per caso perdi l'equilibrio appoggia il piede e ricomincia il ponteggio ripetiamo l'esercizio dall'altra gamba e vi ricordo che potete eseguire l'esercizio più volte nella giornata e se volete potete ripetere anche gli esercizi dei giorni scorsi ciao e arrivederci al prossimo esercizio